Nel corso della seduta della Commissione Sanità di Ieri è stata approvata all'unanimità la mozione per il riconoscimento istituzionale di malattia progressiva ed invalidante per la fibromialgia, presentata dai consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Mario Quaglieri e Guerino Testa. I contenuti del documento sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Pescara da Guerino Testa e dal referente regionale del CFU, Comitato Fibromialgici Uniti, Giuseppe Volpe. Il Partito Democratico aveva presentato una risoluzione che poi è stata ritirata perché la nostra era più completa e comprendeva anche le loro richieste, peraltro era stata presentata anche prima e cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di istituire un tavolo tecnico, cosa che non era mai successo in Abruzzo in tutti questi anni, per la presenza di esponenti importanti del settore, parliamo di esponenti dell'assessorato, esponenti delle associazioni nazionali che curano e che si prendono cura di questa patologia, per fare cosa? Per fare anzitutto un primo censimento perché oggi non si conosce assolutamente il perimetro di questa patologia, non si conoscono quanti sono affetti da questa patologia, non si sa chi è il medico che si deve prendere cura di questa patologia e chi deve in qualche maniera prescrivere le cure. Ecco, questo è un lavoro che verrà fatto in questi primi sei mesi, fra sei mesi faremo un primo censimento, un primo resoconto, alla presenza anche dell'assessore Veri che ha dato il suo ok alla nostra mozione, per poi passare al secondo step, che è quello ancora più importante, ossia quello di cercare di far riconoscere la fibromialgia come malattia invalidante e quindi di cercare anche un esonero o un parziale esonero dal pagamento dei farmaci perché questa malattia viene definita da un lato invisibile perché ancora non si conoscono i contorni e dall'altro anche una malattia per ricchi in quanto le cure richiedono ingenti spese mensili.